Alessandra dove siamo? In Pian Dalma. In Pian Dalma quindi? In Maremma. In Maremma. Oh come mai? Siamo un po' un viaggio di ritorno alle origini, come mai? Spiegalo. No, per me no, perché io sono stata a Livorno. No, però qui ci venivi. Però la mia mamma è nata qui, proprio in questa zona, e ci venivo la piccina, anche se io non mi ricordo niente. No, però ti ricordavi che non c'erano i cipressi e ora ci sono? Ce l'hanno confermato, brava. Sì, brava. Nella strada. Sì. E qui siamo in un agriturismo, vero? Sì, c'è un silenzio. C'è cani che abbaia, c'è cani, c'è poco campo e niente. Però noi abbiamo degli aggeggi per fare campo. Sempre all'avanguardia. Sì, abbastanza. Insomma, programmi, programmi, tutta campagna, passeggiate, salute. Via, saluta. Ciao.